Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi è un nuovo video e come potete vedere dal titolo qui sotto oggi vi parlerò dell'uscita elettorale del mese, in questo caso di dicembre pensavo di non fare questo video perché di solito nel mese di dicembre le case editrici non pubblicano nuovi titoli ma si soffermano sulle uscite dei mesi precedenti invece spulciando un po' sui nuovi titoli mi sono resa conto che c'era qualche libro che vi volevo consigliare perciò non perdiamoci un ulteriore chiacchiere e partiamo col video il 3 dicembre uscirà lo screenplay originale di animali fantastici i crimini di green the world dice che rolling edito dalla salani, io non ho quello precedente però so che tra di voi c'è qualche appassionato e collezionista quindi non potevano segnalarvi questo titolo il 4 dicembre invece uscirà regina delle ombre ovvero il quarto volume della saga il trono di ghiaccio di sara genossa edito dalla mondadori io non posso parlarvi della trama trattandosi di un seguito non ho letto questa saga quindi non so proprio di cosa parli però ce l'ho in lista non credo che per questo mese la leggerò però comunque per l'anno successivo vorrei dargli una possibilità voi fatemi sapere se l'avete letta e cosa ne pensate il 5 dicembre uscirà in Nietzsche la stella danzante di Michael Humphrey si tratterà quindi di una storia a tavole che però ripercorrerà la storia, i tormenti e gli insegnamenti appunto di questo filosofo il 6 dicembre invece uscirà il morso del serpente di Elizabeth George edito dalla Longanesi a Londra un produttore dei musical si suicida inspiegabilmente subito dopo la notte della sua prima opera che ha avuto uno straordinario successo tre mesi più tardi nella brugliera verranno ritrovati altri due corpi tra cui la figlia di un ex poliziotto e i casi sembreranno connessi tra di loro quindi bisognerà appunto capire qual è il nesso si tratta di un thriller quindi anche nel mese di dicembre non possiamo non farci mancare questo genere e quindi volevo appunto segnalarvelo e per concludere arriviamo al 31 dicembre che uscirà Educazione Subatomica di Zero Calcare si tratta di una graphic novel in cui l'autore cerca di parlare di tecnologia e scienza con il suo linguaggio particolare cercherà di arrivare immediatamente a tutti quindi non cercherà di inculcare dei concetti specifici riguardanti queste materie ma cercherà sicuramente di invogliare i lettori a saperne di più di queste materie quindi lo trovo anche questo un titolo molto molto accattivante bene ragazzi questi erano tutti i titoli che sono riuscita a trovare a scovare per il mese di dicembre voi fatemi sapere se c'è qualche titolo che vi incuriosisce o comunque se state attendendo qualche altro titolo che magari a me mi è sfuggito vi lascerò come sempre tutti i link giù in info box su tutte le mie varie informazioni e noi ci vediamo al prossimo video un bacio ciao